Lisa Vittozzi, campionessa di Viaclon, oggi in visita alla Fiocchi Munizioni. Quanto sono importanti le munizioni per la sua resa? Beh, assolutamente la cosa più importante per noi è avere una cartuccia che ci permette di ottimizzare le prestazioni, sia in tutte le situazioni, quindi per noi è molto importante avere il loro supporto durante tutta la stagione, la stagione estiva, la stagione invernale, siamo da tanti anni con loro e abbiamo ottenuto diversi risultati, quindi penso che sia una cosa fondamentale avere una cartuccia che ci sostiene. Quante ore dedica per arrivare a questi successi? Tante ore, sicuramente, la dedizione e comunque l'allenamento al tiro è molto importante, quanto la parte atletica, quindi passo praticamente tutta la giornata in allenamento, sia di tiro che di atletico, quindi una parte importante va anche dedicata al tiro. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi? Beh, mi aspetta comunque una stagione estiva ancora da fare e poi ovviamente la stagione invernale ci saranno i mondiali che noi abbiamo la fortuna di avere ogni anno, quindi prepareremo al meglio quelli e poi comunque spero di fare una stagione ai livelli di quella scorsa. Nell'ambito agonistico la produzione di munizioni ricerca continuamente la qualità e la perfezione, quindi è sempre una tendenza a cui poi in seguito la produzione deve tendere anch'essa. Lisa Vitozio è straordinaria, ha avuto dei risultati eccezionali, è bravissima, è un po' merito anche nostro che con delle cartucce dedicate sul biathlon, lei ha vinto la Coppa Individuale quest'anno, è riuscita a mantenere dei risultati eccellenti.